riesce a giostearsi. Adesso abbiamo Valeria Spinazzima, Spinazzima, ottima conduttrice di Torino, la vedremo sicura, vedete nel suo andar via, neanche guarda il cane, prende la posizione precisa, prepara il cane per l'ingresso nel tubo, vediamo adesso nell'ingresso, ecco, un'occhiata, lo spostamento del corpo che fa entrare nel tubo, nell'entrata il trusso, vedete come il conduttore anticipa data via per portarsi appresso il cane, ecco che anche non è scivolata, ma è recuperata benissimo da parte di Valeria, ottimo anche le traiettorie, credo che vado a fare un buon tempo, 30 e 16, e sì, credo che sia un buon rum, ottimo tempo. Per quanto riguarda i conduttori e non i cani, direi? Sì, in molti anni usano gli scarpini che si usano nel calcio, perché il terreno è lo stesso praticamente, e quindi dà più presa, più stabilità allo scarpino con i tacchetti, poi magari in interno, invece la scarpata da calcetto forse è migliore. e quindi Grazie a tutti.